Oggi presentiamo la commedia Cupido, scherza e spazza, associazione L'Alveare di Catanzaro nella giornata di domenica 3 marzo alle ore 18. Sì, è una commedia del vecchio panorama napoletano di Pino De Filippo che noi abbiamo cercato di rispolverare e soprattutto di adattare alla capacità dei ragazzi perché nell'ambito della compagnia teatrale c'è chi ha dei ruoli un po' più importanti, chi ha dei ruoli meno importanti ma ognuno avrà il suo ruolo nell'ambito della rappresentazione, anche se possa essere piccolo, però noi ragioniamo a livello di un grande puzzle, ogni pezzo ha la sua importanza. Diciamo un grazie per questi ragazzi che da quasi un anno si stanno impegnando e soprattutto è una gioia vederli lavorare perché effettivamente io ormai sono con loro da tanto tempo e il miglioramento che si ha con l'attività teatrale non c'è altra terapia, il teatro veramente li valorizza e li rende veramente normali. Io non facevo teatro, ero molto emozionata e ora questa cosa mi dà gioia, vedendo questi amici mi danno grande soddisfazione e ti ringrazio. Ti trovi bene con il gruppo? Sì, sì, molto, sono come una famiglia che mi vogliono bene, specialmente Nino e zio Mario. Sì, abbiamo un bello spirito di amicizia, di affetto, d'amore, facciamo tutto insieme, siamo come una famiglia. Tante attività dell'alveare durante l'anno? Sì, facciamo agricoltura biologica, coltiviamo, raccogliamo, tagliamo gli alberi, preghiamo i mandarini, preghiamo di tutto. Paola, tu che dici? Sei pronta per domenica? Io sì, tantissimo, anche perché in questa commedia ho un personaggio tutto mio e mi diverto tantissimo a fare teatro perché per me è una passione fare teatro. Perché non l'ho mai fatto a scuola, però con tutti loro sì, perché per me è divertentissimo recitare veramente tanto e con loro mi trovo benissimo. Non ci resta che dare effettivamente l'appuntamento ai catanzalesi e ai calabresi domenica 3 marzo alle ore 18, Teatro Comunale, con la commedia Cupido, Scherza e Spazza dell'Associazione L'Alveare. Grazie a tutti, grazie al RTC che ci ha dato ospedalità e ci ha dato soprattutto l'opportunità di divulgare ulteriormente questo messaggio. Vi aspettiamo numerosi al Teatro Comunale per un'ora sana e di divertimento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.